meno z y primo i più aperta tonda, vediamo un po', z x primo meno x z primo j più x y y primo meno y x primo k. Quindi questa è l'espressione del prodotto vettoriale in componenti. Naturalmente si potrebbe dare un'espressione più compatta con le matrici, ma visto che siamo nel biegno lasciamo andare. Ecco, naturalmente uno dice ma come faccio ad imparare a memoria una formula di questo tipo? Beh, attenzione ragazzi, perché noi abbiamo il solito schema x y z, quindi x y, y z, z x. Allora, i, qui devono andare le componenti y e z, perché la i riguarda la x. Allora si mette y primo, y z primo e poi l'altra è negativa, meno z y primo. Qui la stessa cosa, si mette prima la z e poi x primo e poi l'altra col meno. Qui si mette la x con y primo e poi l'altra parte con il meno. Va bene? Quindi c'è un meccanismo per imparare a memoria questa formula qui. Allora, vediamo subito un esempio. Supponiamo che il vettore u sia abbia le componenti 1, 0, 1 e il vettore v abbia le componenti 2, 1, meno 1. Allora, proviamo a fare u vettore v uguale, quindi al posto di y devo mettere 0, quindi al posto di z primo devo mettere meno 1, 0 per meno 1 da 0. Quindi abbiamo 0, meno, adesso devo mettere z y primo. Allora z è 1, y primo è 1, quindi 0 meno 1, i. Più. Adesso al posto di z primo di z primo devo mettere 1, x primo è 2, 1 per 2 da 2 meno x, 1 per z primo meno 1, 1 per meno 1 più 1, quindi 2 più 1 diventa 3, j più. Adesso x y primo, 1 per 1, 1, meno y che è 0, 0, k. Quindi se non ho fatto errori, il risultato dovrebbe essere meno i più 3, j più k. Allora vi lascio alcuni esercizi da svolgere nella settimana, quindi esercizio. Allora supponiamo che sia dato il vettore u 2, 1, meno 1, v uguale a 1, meno 1, 0. Allora determinare u vettore v e determinare v vettore u e dimostrare che sono opposti. Inoltre andare a determinare l'angolo compreso fra i vettori u e v. Quindi andare a determinare essenzialmente il seno di alfa e poi alfa. Ecco, ricordiamo che se un vettore u si scrive come x i più y j più z k, allora il modulo di questo vettore sarà la radice quadrata di x alla seconda più y alla seconda più z alla seconda. Poi diamo un altro esercizio. Supponiamo che il vettore u sia uguale ad a, 1, 1 e b sia uguale a, vediamo un po', a 2, meno 1, 3, allora determinare a in modo che il modulo di u vettore b sia uguale a 2.